Professoressa, credo che possiamo iniziare da lei. Aspettiamo. La studentessa Tiziana Novelli, che si è laureata con me, aveva oggi un concorso esame fuori valle, quindi mi dice farò di tutto per arrivare, però non la vediamo e quindi io direi che noi procediamo. Io sono stata la sua relatrice, la sua tesi la conosco piuttosto bene, quindi semmai mi faccio carico io di illustrarla un pochino, se siete d'accordo, perché rientrando dalle miglia, dove mi pare di aver capito che avesse questo esame, evidentemente non ce la sta facendo. Buon lavoro. Ok, Luigi volevi aprire tu, vado io. Allora, direi che ciò che ha detto Luigi in conclusione della presentazione dei tre settori e quindi quando ci ha detto tocca a me adesso di nuovo ricondurre gli interventi che sono stati fatti, le cose che sono state dette alla relazione delle performance, mi ha dato un ottimo aggancio per partire adesso con le poche cose che voglio dirvi in questo poco tempo che abbiamo. Ovvero, lui diceva, abbiamo cercato di spiegare e nella relazione si cerca di illustrare, nella relazione delle performance di ogni anno naturalmente, perché l'amministrazione deve farla tutti gli anni, tutti gli enti pubblici è un adempimento, adesso non stiamo qua a raccontare tutti gli impegni insomma su questi adempimenti, però ogni anno le pubbliche amministrazioni devono fare questo documento. E quindi, e ogni anno si cerca, ed è una cosa molto importante, devo dire che grazie anche proprio all'attenzione che Luigi ha e che tutti i dirigenti, insomma che l'amministrazione ha in questo senso, e che non è sempre così scontata e facile da trovare. Certe volte ci si perde un po' di più, si vedono tanti documenti di questo tipo che si perdono anche un po'. Invece bisogna dire che nella relazione delle performance della Valle d'Aosta si sta molto attenti a questo collegamento, no? Che Luigi diceva. Tra gli obiettivi politici, il programma politico, quello che gli amministratori quando vengono nominati dicono, dichiarano, insomma, di voler portare avanti e sulla cui base gli elettori li scelgono, ecco. Poi anche lì, certe volte ci si perde, eccetera, però. E poi l'azione amministrativa, quindi quello che l'organizzazione dopo fa. E quindi il segretario generale, i coordinatori, i dirigenti, i dipendenti, e tutti quanti. Quindi se ci pensate, immaginate di vedere una sorta di cerchio, no? Anzi, chiedo, bravo, bravissimo, grazie. Magari andiamo proprio a due dopo, direi, dove c'è, ecco, perfetto. Immaginiamoci proprio un modello circolare, che è quello di trovare il collegamento tra le finalità politiche, gli obiettivi politici, che poi diventano strategici, quindi di lungo periodo, e poi operativi gestionali, quindi annuali, ok. E fin qua abbiamo fatto un pezzo, però se ci pensiamo manca un pezzo, cioè il pezzo finale. Ma queste cose politiche, poi queste cose strategiche, poi queste cose operative, cosa producono, che risultati producono, che effetti producono, dove? Sul territorio, sui cittadini, sulle persone, sui portatori dei bisogni. Ecco che, quello che appunto Luigi diceva, e il collegamento tra le politiche e gli obiettivi strategici e operativi, poi dei vari settori, mi consente proprio di dire molto semplicemente che cos'è la customer, che è il tema di questa ultima parte. Customer è una parola che vorrebbe dire acquirente, o cliente, però è brutta da tradurre così. Diciamo il destinatario finale, la destinazione finale, che poi può essere il cliente, l'acquilente, l'utente, il cittadino, l'utente interno e l'utente esterno, perché io ho dei cittadini che viaggiano sui treni, e questi sono degli utenti esterni, delle persone che vanno in ospedale, degli studenti che vanno a scuola, degli agricoltori che chiedono dei contributi, però ho anche il collega dell'altro dipartimento, dell'altro ufficio, del ministero, del comune, della scuola, che attende da me un pezzo di una pratica per poter poi andare avanti con la procedura. Quindi utenti esterni ed interni, poi la traduzione o i termini sono di volta in volta un po' da declinare, ma l'effetto finale. La customer quindi non è una cosa settoriale, ma è un approccio, un insieme di strumenti, di tecniche, che si utilizzano per andare a cercare di capire alla fine l'azione politica, l'azione strategica e gestionale che effetti ha prodotto. E la cosa importantissima, quindi poi in questa platea molte sono le persone con cui ci conosciamo e che sono nell'amministrazione regionale gli attori diretti di questo approccio che la regione Valle d'Aosta ha recentemente introdotto. E anche in questo caso devo dire che siamo una, non dico l'unica regione che lo sta facendo, assolutamente no, ma è stato fatto negli ultimi tre anni un lavoro così sistematico che credo davvero di poter affermare senza sbagliarmi che non sia ancora stato fatto in nessun'altra regione in maniera così sistematica. Dopo vedremo anche un paio di numeri. Questo anche perché la Valle d'Aosta è piccola e quindi si presta un po' più facilmente ad essere un laboratorio in questo senso. Quindi la customer è cercare di andare a rilevare l'effetto finale ponendolo dentro un meccanismo circolare perché non è che dopo alla fine mi fermo lì e dico allora è quello che viaggia sul treno e è contento o non è contento quello che si è fatto curare la sanità ci piacciono le iniziative culturali no, ma la customer ci pone dentro un circolo che da quel momento in poi non deve fermarsi mai più e quindi è proprio un modello circolare di miglioramento continuo questo è quindi il concetto di base diciamo la logica di base della customer è che è un approccio circolare permanente e quando un ente lo inizia non lo dovrebbe dismettere più anche perché può essere uno strumento di reale aiuto all'azione politica e amministrativa prima di andare avanti e dire ancora un paio di cose poi condividere anche con Dario quelli che sono stati i risultati di questi due quasi tre perché adesso c'è stato il 17 c'è il 18 ormai quasi finito nel quale comunque ovviamente i dirigenti hanno lavorato e i dipendenti sul tema della customer l'amministrazione tutta in trasversale ha lavorato su questo tema e con questo approccio e si sta preparando il 19 pertanto la regione è ormai tre anni che ha fatto proprio questo approccio ci tenevo solo a dire una cosa che riguarda la presenza mia qui e quindi dell'università in questo caso appunto sono in rappresentanza dell'università e credo sia importante e penso sia importante spiegare come mai dicendo questo l'università ha tre missioni ha tre macro ambiti di attività che sono la formazione ovviamente la ricerca perché se non ricerchiamo e approfondiamo ed elaboriamo nuove conoscenze non possiamo insegnare niente di nuovo ai nostri studenti e una ulteriore terza area che viene chiamata terza missione la terza missione vuol dire per noi in università il servizio al territorio quindi mettersi a disposizione e collaborare con il territorio e con tutte le istituzioni e le aziende presenti sul territorio per i bisogni per i quali l'università abbia delle competenze terza missione che è poi un aspetto che a me piace particolarmente a me piace molto la formazione sono meno brava nella ricerca decisamente almeno così ritengo mi piace molto la terza missione perché è molto concreta terza missione che quindi significa comunque fare delle ricerche per l'ente pubblico e per la regione quindi con l'università ci sono stati collaborazioni ci sono collaborazioni non lo so sul welfare sul turismo e quindi anche su questi temi che stiamo vedendo la performance e la customer significa fare delle tesi e quindi ecco la tesi di Tiziana Novelli che è stata che si è laureata recentemente che è stata una tesi proprio dedicata alla customer e al lavoro che la regione ha intrapreso su questo fronte piuttosto che non stage in effetti Tiziana aveva fatto stage e tesi ecco quindi cosa c'entra l'università in questa in questa sede c'entra come istituzione che si mette al servizio della regione da cui peraltro arrivano anche l'ampia parte la maggior parte dei finanziamenti per il suo funzionamento con le competenze che può mettere in campo torniamo alla customer vi presento questo che è un modello circolare bello perché arricchisce di qualche concetto quello che abbiamo detto fino ad ora quindi le politiche l'azione amministrativa gli esiti finali ecco gli esiti finali devono quindi rientrare come input di comprensione di analisi critica di proposta rispetto al ciclo della programmazione successiva quindi vedete mettiamo proprio un po' insieme i termini che abbiamo visto in questo pomeriggio di oggi performance che vuol dire l'ente pubblico quindi la regione in tutti i suoi settori e quindi nel suo complesso raggiunge dei risultati sono le performance poi aperta parentesi sulla base di questi risultati tra l'altro avvengono le valutazioni dei dirigenti dei dipendenti della regione quindi è molto importante misurare verificare valutare i risultati ottenuti la customer ci aiuta a chiudere il cerchio quindi ad andare fino in fondo ad ascoltare quelli che sono fuori o quelli che sono comunque fuori dalle mie attività e qua è una lunga storia anche in economia aziendale di cui io mi occupo la customer arriva a un certo punto ognuno di noi se ci pensate tende ad essere concentrato sul suo lavoro sui suoi problemi dice la mia banca dati del ministero quella là dell'agricoltura ha dei problemi tecnici ok e quindi uno si concentra su quelle cose lì i trasporti in una regione così piccola con così pochi abitanti con un bilancio così ridotto di risorse si fa una fatica pazzesca io in università ognuno vede del suo lavoro le sue criticità interne e tendiamo sempre a non andare fino in fondo a non vedere come veniamo percepiti e che cosa combiniamo in quello che noi facciamo all'esterno la customer ci fa sforzare di fare questo lavoro arriva nella pubblica amministrazione anche quella come la performance come diceva Luigi all'inizio dal dal 2000 in poi sono quindi approcci relativamente recenti e potete possiamo tutti immaginare quale sia la fatica della pubblica amministrazione nel accogliere nell'introdurre delle logiche così ancora più che nell'impresa dove il rapporto col mercato è fondamentale perché se non piace al cliente non ti compra nella pubblica amministrazione questo meccanismo manca e quindi sicuramente è più faticoso non è l'unica ragione ma è sicuramente una delle ragioni l'approccio della customer che cosa comporta che il cittadino il viaggiatore sul treno il pendolare affaticato l'agricoltore che non riesce a compilare i moduli all'asino e mazzolo e mucche non riesce a avere il contributo tutti quanti ci possono dire qualcosa ci possono dire qualcosa che magari certe volte è anche inutile o magari invece certe volte è utile e a quel punto la customer se è fatta bene perché se è fatta male è meglio non farla la si butta via ci facciamo del male è controproducente ma se è fatta bene in maniera progressivamente seria e soprattutto sistematica ci aiuta a fare quella cosa lì cioè a governare meglio quindi noi recepiamo e riceviamo anche degli input che ci possono servire per migliorare le nostre scelte se questo non avviene è comunque da buttare quindi è importante seguire tutto il percorso e quindi dagli input che raccogliamo piuttosto anche molto piccoli questa è una cosa che io dico sempre non dobbiamo pensare di far chissà che cosa dei piccoli miglioramenti progressivi quotidiani o annuali o periodici hanno comunque un senso non solo ma e a me piace molto anche quell'ultima parola quell'ultimo passaggio che vuol dire lealtà magari potessimo pensare ma non lo dico con riferimento alla Val d'Aosta o non solo lo dico con riferimento in generale magari potessimo pensare a un ente dove le persone dentro si fanno carico veramente si prendono questo mal di pancia diciamocelo perché è un lavoro perché è un lavoro anche noioso pesante certe volte frustrante deprimente che ci rattrista che ci delude che ci scoraggia di andare ad ascoltare tutti quelli a cui noi diamo qualche prestazione e cercare di tirarne fuori qualcosa di buono lo dico sempre in questi casi parlo da docente gli studenti ci fanno i questionari di valutazione e ti dicono di tutto e certe volte sono fastidiosi tuttavia in mezzo a tutto quello ci sono anche delle cose utili e il docente come ciascuno di noi che si metta lì a dire ma vediamo di raccogliere tra tutto quello che mi è stato detto anche delle cavolate qualcosa di importante che io posso pian pianino introdurre nella mia azione quindi la cosa fondamentale è la circolarità dell'approccio della customer che quando inizia non dovrebbe smettere mai più e dovrebbe proprio corrispondere a una nostra filosofia di servizio vero e proprio al cittadino o nel mio caso allo studente io direi che adesso bando alle filosofie e vediamo magari con Dario qualche numero cosa dici quindi passiamo magari chiedo gentilmente al nostro sì qua c'erano varie cose quindi le norme nelle quali ecco la customer naturalmente ha detrattori ed estimatori si presta anche a critiche è un è un impegno particolare ma passerei chiedo gentilmente al nostro amico alle al computer all'altra serie di slide quindi alle altre tre slide che abbiamo se Tiziana per caso è arrivato che io non vedo perché le chiediamo di raggiungerci ma mi sa di no ecco Dario magari li commentiamo insieme questi numeri quindi il lavoro che ha fatto Tiziana è stato nel suo stage e quindi poi che ha rappresentato nella sua tesi è stato un lavoro che ha riguardato 62 strutture dell'amministrazione regionale quindi coordinatori dirigenti e collaboratori sono stati effettuate 11.495 rilevazioni che vuol dire verifiche sui servizi prestati da quelle 62 strutture con modalità varie è stata utilizzata vedete quasi unicamente o in maniera del tutto prevalente la modalità del questionario poi in certi casi più lunghi in certi casi più brevi più semplici dipendeva anche a chi chiedevamo che cosa nel 98% dei casi oppure tramite altri strumenti altre modalità cioè ci sono vari modi per andare a chiedere ai nostri destinatari se sono contenti cosa ne pensano se hanno delle idee delle proposte che quindi poi noi andiamo infatti adesso la chiamiamo re-customer tipo customer reloaded cioè ogni anno facciamo la customer raccogliamo i suggerimenti li implementiamo e verifichiamo se va meglio dell'anno precedente quella che adesso chiamiamo appunto re-customer negli obiettivi 2019 c'è stato un tasso di risposta molto alto ci si accontenta anche di tassi più bassi spesse volte il 58% vuol dire che rispetto a tutti coloro a cui si è chiesto qualcosa il 58% ha comunque risposto il 79% come tasso di copertura rispetto a tutti i settori di attività a tutte le tipologie di utenti a tutte le tipologie di ambiti ecco nel 69% dei casi e questo è il numero che mi piace di più e che è il più importante quindi due terzi buoni gli elementi raccolti i giudizi raccolti gli spunti raccolti hanno permesso e poi sono stati anche bravi i vari dirigenti e collaboratori che hanno svolto queste analisi ha permesso di formulare delle proposte delle azioni migliorative a dire ma allora l'anno prossimo io su quel servizio lì faccio così cambio quello cambio il modulo lo metto online insomma magari anche piccole ripeto ma che comunque hanno molto valore altri strumenti sono stati quelli una cosa che si chiama focus group se volete è una terminologia un po' tecnica però le interviste oppure andare a vedere su TripAdvisor cosa hanno scritto i turisti i visitatori dei siti e dei musei e dei castelli piuttosto che altri strumenti questo per dire questo è uno degli aspetti tecnici poi lo sanno le persone in sala che li hanno operativamente svolti molto bene ma è molto importante scegliere lo strumento e quindi raccogliere nella maniera corretta gli spunti che ci possono arrivare e pensiamo anche che ci sono dei settori nei quali è difficile chiedere e ci aspettiamo fisiologicamente un tasso di insoddisfazione perché magari la nostra attività è anche un'attività che ogni tanto deve negare qualcosa a qualcuno un permesso un finanziamento fare dei controlli quindi non tutta l'azione amministrativa è sempre ben percepita e la gestione dell'insoddisfazione spiegare perché l'amministrazione deve fare così è un'altra cosa molto importante quindi se ci pensate è anche un modo per far maturare il cittadino e maturare anche far maturare la struttura insieme al cittadino insomma è un lavoraccio nel senso che è proprio uno sforzo continuo di maturazione progressiva andiamo Dario ma interrompimi però dai aiutami allora va bene dici dopo ok allora completiamo con ancora un ok questi d'accordo ancora avanti ecco allora il primo anno di applicazione della customer che è stato il 17 è stato un anno nella quale è stata applicata in regione in maniera un pochino anche autodidattica e quindi non magari perfetta sotto il profilo metodologico sono state eseguite delle modalità non sempre poi del tutto confrontabili tra di loro ma non importa nel senso che è stato molto importante proprio partire vi ripeto non mi risulta che nessun'altra regione italiana abbia fatto un lavoro di questo tipo anzi credo che potrebbe davvero valere la pena di fare una pubblicazione sulla customer proprio come caso pilota in Italia quindi i giudizi raccolti sono stati ricondotti a quattro item principali a quattro voci principali che sono quelle che vedete lì quindi la professionalità tutte le volte che si chiedeva ai destinatari delle vostre attività delle attività dell'amministrazione come avessero percepito queste prestazioni una delle cose che si chiedevano e che è stata quindi valutata è stata la professionalità da una parte e la cortesia quindi quanto l'operatore è preparato e quanto è anche gentile punteggi su scale da 0 a 10 quindi e quella è stata la valutazione media di tutti i dipartimenti quindi di tutti gli assessorati di tutti i settori di attività della regione le tempistiche quindi la tempestività dei procedimenti delle pratiche delle risposte quello è stato l'esito la qualità dei servizi tenete conto che sono medie però sono delle medie che hanno comunque avuto una varianza non così alta la media può essere poco rappresentativa un 8 può arrivare da un 10 e un 6 la media fa 8 ma in realtà una roba è un 6 una roba è un 10 la varianza non è molto alta il che è già molto positivo quindi in pochi casi qualche 6 normalmente una media che comunque rappresenta c'è anche le valutazioni singole quindi con una con una come dire intervallo di variazione che se è 8 può andare dal 7 al 9 quindi non c'è troppa varianza nelle valutazioni ricevute che è un altro elemento positivo e infine i servizi online quella è una cosa che è emersa che è interessante e che corrisponde un po' a una situazione di fatto della regione e anche di una parte degli utenti che non sono ancora così esperti quindi magari le persone anziane quelle che vivono nelle situazioni un po' più periferiche o anche per delle difficoltà tecniche informatiche oggettive come anche le abbiamo sentite prima per esempio per l'agricoltura quindi la parte sulla quale a livello di indagine di customer la Valle d'Aosta sembra essere un pochino più debole è la parte dei servizi online dei quali quindi possiamo pensare che venga richiesto un potenziamento un miglioramento un irrobustimento e quant'altro con una valutazione media complessiva che è quella io mi fermo qua davvero a questo punto ti passo la parola perché se abbiamo detto che è un circolo continuo vuol dire che bisogna andare avanti e migliorare per cui credo che tu di questo voglia parlare vero Davide vediamo